La guerra dei trent'anni, un'epopea di sangue e ferro. Introduzione La guerra dei trent'anni 1618-1648 fu un conflitto di proporzioni epiche che sconvolse l'Europa centrale, lasciando un'eredità di devastazione e sconvolgimento sociale. Sebbene sia conosciuta come un'unica guerra, fu in realtà una serie di conflitti interconnessi, combattuti per diverse ragioni da una varietà di stati e principati. Le cause Le cause del conflitto sono complesse e multiformi, ma possono essere riassunte in tre macro-categorie. Religione La riforma protestante aveva lacerato l'unità religiosa dell'Europa, creando tensioni tra cattolici e protestanti. Il Sacro Romano Impero era particolarmente vulnerabile a queste tensioni, con la sua frammentazione politica e la coesistenza di diverse confessioni religiose. Politica, l'ascesa della dinastia asburgica, che controllava sia l'impero che la Spagna, minacciava l'equilibrio di potere in Europa. Le potenze protestanti, come la Francia e l'Olanda, temevano l'egemonia asburgica e si opposero alla sua espansione. Economica, la guerra dei Trent'anni fu anche un conflitto per il controllo delle risorse economiche. L'Europa centrale era ricca di miniere e terreni fertili, che attiravano l'avidità delle potenze straniere. Le fasi del conflitto La guerra può essere suddivisa in quattro fasi principali. Fase Boemo-Palatina 1618-1625, il conflitto iniziò in Bohemia, con la rivolta dei protestanti contro il dominio asburgico. La guerra si diffuse rapidamente in Germania, coinvolgendo l'Unione Protestante e la Lega Cattolica. Fase danese 1625-1629, il re di Danimarca intervenne nel conflitto a sostegno dei protestanti, ma fu sconfitto dalle forze imperiali. Fase svedese 1630-1635, l'intervento della Svezia, guidata da Gustavo Adolfo, cambiò le sorti del conflitto. I protestanti ottennero una serie di vittorie, ma la morte di Gustavo Adolfo nella battaglia di Lutzen, 1632, pose fine alla loro avanzata. Fase francese 1635-1648, la Francia, guidata dal cardinale Richelieu, entrò in guerra contro l'impero. Le forze francesi ottennero una serie di successi, costringendogli Asburgo a cercare la pace. Le conseguenze La guerra dei Trent'anni ebbe conseguenze devastanti per l'Europa. Si stima che il conflitto abbia causato la morte di circa 8 milioni di persone, un terzo della popolazione dell'Europa centrale. Le città furono distrutte, i raccolti devastati e la popolazione decimata da carestie e malattie. La guerra ebbe anche importanti conseguenze politiche. La pace di Vestfalia, 1648, pose fine al conflitto e sancì la fine dell'egemonia asburgica in Europa. Il Sacro Romano Impero fu indebolito e frammentato, mentre la Francia emerse come la principale potenza continentale. La guerra dei Trent'anni nella memoria collettiva. La guerra dei Trent'anni ha lasciato un'eredità duratura nella memoria collettiva europea. Il conflitto è stato rappresentato in numerose opere letterarie, artistiche e cinematografiche. La sua brutalità e le sue conseguenze devastanti hanno contribuito a forgiare l'identità europea e a ispirare la riflessione sulla natura della guerra e sulla necessità della pace.